Chissà se va, 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 chissà se va. Io non so se questa parrucca mi sta bene e tra l'altro non credo neanche di poter reggere il confronto con la Divina Raffaella. Quindi adesso sono venuta alla conferenza stampa perché devo assolutamente avvicinarla. Signora Raffaella, l'Italia naturalmente. Signora Raffaella, scusate, Raffaella, Raffaella, certo, un saluto, Raffaella, Raffaella, ho solo un problema, mi devo liberare di questa parrucca perché mi hanno detto che non posso competere e non... Ma ci manca il Beatro, tu sei un'erogina, io ti adoro. Beh, se l'ha detto lei vuol dire che la posso tenere. Ciao!